Per garantire il massimo della continuità alle vostre attività, il FastGate dispone di una porta USB a cui potete collegare la vostra Internet Key in caso di assenza di connessione. Una volta collegata la Internet Key potete seguire alcune semplici configurazioni direttamente sul portale web del FastGate. Accedete quindi alla sezione avanzate all'interno del tab configurazioni USB. Attivate la modalità Mobile Backup, inserite il PIN della SIM presente nella vostra Internet Key, inserite la PN web.fastweb.it, inserite nome utente e password e selezionate la modalità con cui volete attivare il passaggio dalla connessione fissa al Mobile Backup, quindi o automatico o manuale. Semplice no?